eccoci qua e se vuoi cd aresi super 4 della piatta degli acciai ti danno il benvenuto chiami che sei giusto? sei qui per scavare i ranghi della mia martillo immagino oh yes partecipare alla prova del super 4? certo 50 pm no non è un problema vai tranqui eccolo spero un momento lei con me non preoccuparti aris ma veramente sono al regolamento mi metto i 50 pm raga ma perché aris è così gentile con noi? va bene ah ti diamo un favore io futura campionessa faccio tutta l'arena dai stiamo indietro facciamo non lo so raga aris è troppo è sospettosamente troppo gentile con noi voilà rifatti gli occhi quella maestosa arena della piazza degli acciai beh a dirla tutta è uguale a tutte le altre arene a parte il freddo snub vabbè il freddo cane vabbè ah ah queste stemperature mi piacciono proprio oh che c'è non ti aspettavi da un amante di palconi tipo drago eh comunque sorella seguiva la prova di super 4 non pensi di bioterare lotte bioterarium superare una prova e una passeggiata sconfiggite il membre del club lega il gioco e fa ah ok devo rispettare le tre regole speciali potrei lottare solamente ok 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 ho scusato io stessa no scusami ma va bene ok però devo farmi la squadra quindi aspetta però per ora secondo me questa squadra potrebbe starci ho un po' ora per mac e camerut che sono un po' deboli però vabbè proviamo dai nel caso salvato andiamo dai ah ok ok credo la lega dai allora dopo vado a comprarlo ok così mi piace bravo allora venite fuori voi tre è arrivato il vostro momento speriamo raga oddio ho un po' paura ho ilà salve il piacere ehi ciao nel caso non ci sono limiti di tempo quindi fai pure con comodo ah ok va bene quindi in realtà potresti tipo andare a prendere qualsiasi altro pokemon vabbè però vediamo se riusciamo a farla così allora da chi parto dai facciamo in ordine ti lasciano di sasso perfetto che ho davanti l'apras va benissimo dai speriamo che vada bene ho paura non so che livello siano se sono all'80 ha un problema ok immaginavo ok no dai 68 ci può stare grande che spara subito l'idropompa bellissimo ottimo bel mazzuolegno ah forse però fa mi fa danno vero mazzuolegno eh no aspetta non mi ricordo eh si madonna un bel anche un bel contraccolpo frana azz vabbè dai ci siamo madonna però questo vabbè l'apras ultimo canto è puro gelo sì no ma è è chiaramente un l'apras un po' così cioè non è neanche un cioè non è un l'apras che userei probabilmente però sì forse adesso forse cambia un attimo le mosse tanto posso cambiarle quando voglio ok questo primo è andato dai che bello l'apras l'amore mio sì ma un botto di recoil un botto tipo mi ha tolto metà vita di recoil dai let's go col secondo tutti mi conoscono il mio carattere gelido tu sei pronta a tremare dai senti come pompa papapà dai vediamo un po' vediamo un heavy arctic no dico anche se oh che carino sempre ce l'ho là oh madonna che mosse no non è una mossa a fuoco ma che stai scherzando vabbè così per giocare top eh sì male male madonna vabbè ok sì in effetti potevo farlo a terremoto non so perché non l'ho fatto vabbè infatti ho detto boh perché mi dà super efficace vabbè mi sembrava molto strano e ormai tanto morirà vabbè vabbè ciao kamerupt kamerupt senza mosse di fuoco ciao bello è stato bello ragazzi oh no so renderci vitro d'attacco maledetto provo di farli fuori vabbè mamma mia l'hectus è troppo forte e il bello dorme mi mettiamo mi mettiamo il primo tanto che se ne frega ah non lo sapevo figata questa cosa e vabbè usiamo che cosa usa bora tanto ma sì vabbè tanto lol vabbè poi bora 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 sotto snow entra sicuramente no entra sicuramente o ha più probabilità entra sicuramente mi sembra l'hectus fortissimo raga 100% infatti ricordavo che aumentasse ma non ero sicura fosse al 100% anche l'ultimo andiamo comunque lui che conosce chi sarà vabbè ok chi sarà sì vabbè ma guarda io questi l'ho catturati per la natura ce li ho presi proprio così per il pokédex e mi ispiravo adesso come pokémon da usare cioè onestamente zeppstrike è in mani in zone ok ma calala comunque bellissimo da vedere allora usiamo un bel bora nel dubbio e usiamo un sporco lancio così a caso aia ok onesto così ah poi brutto colpo vabbè pure ghiacciato vabbè sto male poverino porello non se lo meritava ah giustamente non è effetto perché lui è acciaio vabbè io proprio sono sono usiamo che cavolo uso vabbè usiamo mazzuregna che magari fa un po' male e te sgranocchi direi se straica è congelato porello vabbè madò non gli ho fatto niente è niente vabbè tripletta ok eh no infatti si me ne sono resa conto ce li guarda dopo perché resa conto vabbè ok ed allora facciamo facciamo comunque un bora e facciamo uno sgranocchio su magnizon non è più congelato azz e allora ciao non sa che muore eh infatti ciao abomasnow ciao bello vabbè mettiamo allora ah no vabbè scusa scusami no questo cambia tutto questo cambia tutto no no mac e vabbè cameroupt ora che hai una mossa a fuoco direi che è il momento di usarla comunque mac che si è bloccato così bellissimo bellissimo lava sbuffo colpisce entrambi si colpisce anche però mac ma si facciamolo chi se ne frega guarda che tentenna oh no ok guardalo ah ti sei mosso l'ho visto vediamo questo lo sapevo che tentennava guarda lo sapevo lo sapevo mamma mia sto male è stato fulmine per boostarlo fighissimo vabbè però è un po' tardi come mossa c'è bellissima ma un po' tardi forse vai cameroupt distruggi tutto e tutti se anche il mio mac va bene così povero povero mac ucciso per la gloria per la fama vabbè noto da elettroshock eh sì dai che voglio andare nell'era zero allora vediamo un po' come sta andando uno due tre oh complimenti si è uscito da battere tutti e tre gli allenatori e questo direi che si è superato la prova di super 4 daie ora raga contro aris sto tremando temendo aiuto esimi colleghi del club lega grazie di tutto potete battere tirata al galoppo su ci vediamo alla prossima ciao ciao ah che cari sono proprio disciplinati raga sarebbe a tenere questo team e provare a battere aris così però forse è un po' too much beh finalmente gli tocca lottare contro di me finalmente si aris eh esatto sì non ti preoccupare no 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 cambio squadra e arrivo che dici sorella sei venuto a trattare con me sì let's go grande volevo quello che speravo forza allora diamoci da fare raga sono in ansia sto 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 dire che qui va più che bene Cassie finora ho sembrato solo fuori dal campo come te la cavi nelle lotte quindi questa è la prima volta che ci troviamo faccia a faccia dell'arena ho bisogno di un favore sorella di raggiungere la vetta della lemi perché sappi che se tu dovessi perdere sarai beh diciamo che non me la passerai bene ci ho detto dartila subito per vinta sarebbe una noia mortale ma non me ne volere farò sul serio beh ora basta chiacchiere l'importante è che lotti come fai sempre non chiedo altro sorella mia non sai quanto da chiari se sei risato all'idea di lottare contro di te madonna mia un botto allora si parte raga questa sarà una bella lotta forte ti ho inizio la festa ok let's go ottimo allora se voglio vedere mi piangi le vinci questa volta ci conto va bene aris allora io direi facciamo così nel dubbio tanto fa ecco appunto peso molto peso questo ottimo ottimo eh certo ma sono super efficace devo far per forza così questo è da raghetti ah vento in coda pure chiuserei come prossimo kingdra buono a sto punto direi che un drago frecce va più che bene aia ok un drago frecce va bene è arrivata l'ultima lotta contro l'ultimo super 4 aia grande idea così mi fai fuori questo kingdra nooo porca miseria allora tu sicuramente devi venire con me io mi sa che mi ricaricherei idea perché potrebbe essere utile avercela ancora in campo per un po' e poi no con te userei un bel girodenti sul nostro amico dragonite speriamo che va posso andare bene come cosa ok una pioggerellina arca miseria me lo immaginavo però credo che faccia abbastanza male questo girodenti invece no 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 male male era poi il brutto colpo madonna male male allora direi che te si deve eliminare subito tu se ci riesci ad attaccare un altro bene meno male che l'ho ricaricata ok no coi ciao ciao eh male male comunque qua eh però uno per uno dai non so quanti ne rimangono a lui però dai me la devo tenere perché sarà la mia aveva anche vento in coda è vero vediamo chi mette lui adesso axorus no devo tenerla dea allora facciamo fuori axorus madò terremoto basta dea madonna dea resisti ok axorus sicuramente down perfetto ok set pile ok ok non è l'ultimo facciamo una cosa cambiamo un attimo con lui e tu mi fai un carineria anzi facciamo un notte sferza che è stub su dragonite perché tanto prestigia fiori anche se è stub comunque non penso che tagga molto ok perfetto anche una predict ottimo sì ok ha fatto un dannettino ci sta perfetto almeno ha fatto un po' di danno prima che ci lasciasse qua si è messi comunque malino bisogna stare attenti qua devo sicuramente ricaricare dea userò adesso il turno di lucario per ricaricare dea userai lama del rimorso borsa ok diciamo lucario quanto è piccolo piccolissimo aiuto vinto del drago oh no cos'è sta cosa raga non la conosco mica ah ok dai dai ok tolto un buon 40% però ma docia avanzi cos'è no cos'è no calmiamoci ok dai torno pugno lo sta reggendo ok ah pure pioveva è vero quindi ora farà anche più male che è ah un drago pulsar ma subito ah 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 madonna calmati calmati non mi ricordavo di questo drago pulsar ottimo ottimo ok dovremmo essere quindi perfetto quindi dovremmo essere un pokemon ottimo dovrebbe essere l'ultimo no arcalodon perfetto che è l'ultimo sì e allora vabbè continuiamo ad attaccarlo direi a sto punto tanto terra che salizza drago sicuro ok ribolli seguire il drago domine su tutto il creato giustamente è che ho un po' paura però eh infatti questo non è molto efficace però forse dovrò usare l'attacco spettro come la ma do aiuto però questo drago pulsar molto buono molto molto buono ok ti spazzero via non mi sfuggirai ho po' paura aiuto mi fa lucario lucario mi fa fuori ok mi fa un sacco paura però se attacca per ultimo potrebbe non reggere mmm ho fatto veramente poco no non l'ho sciotto dai 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 se non è servita neanche idea raga abbiamo battuto tutti i super 4 yes proprio quello che speravo il ponte di unima esatto eh è stata una delle lotte più belle che abbia mai fatto sono proprio contento di averti invitata nel club lega sorella ora che mi hai sconfitto non hai più scelta ti tocca entrare piccamente nel club vero ah non lo ero già eh vero ma non lo ero già scusami eh grazie grazie molto gentile da parte tua allora scattiamoci una foto così possiamo usare per il registro dei miei obiettivi del club ok va bene che carino uh ti ho fatto poco se è venuta fuori già sento rupi non ci siamo per niente non stai dimenticando qualcosa ah giusto si usano una mta che esce la vatten uno super 4 giusto tra un momento non ne ho con me quindi credo di portare pazienza ok vabbè non ti preoccupare kissback una sorella ci ho messo una vita lo so e così è fatta la roba che ti ho promesso la roba eccola eccola quella del grido del drago quello che ho visto prima il pokemon incita gli alleati con i noi draghi aumentano probabilità che sparino brutti colpi ah ok molto carina e non farei troppo a caso la polvere comunque è uscita a scalare la lemi in men che non si dica a questo punto gli tocca puntare alla vetta sorella mia solo chi sconvince tutti i super 4 della lemi ha di desidare il campione in carica cioè riben eccola appunto pari del diavolo e sarebbe pure ora ce ne hai messo a battere i super 4 kissy vi aspettavo di più da te riben ti preoccupi parecchio di kissy o sbaglio tu piuttosto vedo che stai facendo battere no vedo che stai facendo in 4 per sostenerla bisogna trattare bene i nuovi studenti adesso sono tutti fratelli no? ma sentilo non so di cosa non so cosa ti passi per la testa ma ormai i tuoi piani hanno le cuore contate che si se vediamo la volta per tutte chi è il più forte madonna raga riben mi fa paura ci siamo finalmente vogliamo vedere come va a finire se vado a risposta per la sfida finale no vai a parlare con un tipo della reception ah qua devo battere il ribbon si sa che non ha finito che devo battere il ribbon I know I know mi fa paura mi fa paura mi fa paura